ciao amici benvenuti di nuovo sul mio canale youtube guardate che belle spighe queste le ho colte proprio in un campo di grano ma sono diverse una dall'altra quindi non so che tipo credo che ci sia anche la segale ed altri tipi il grano corasan ad esempio molto belle vero mi sono fatta anche una bella foto con le montagne dietro a questo campo sterminato di grano bene andiamo a vedere questo video ecco credo ci sia il farro anche perché in alto adige lo usano molto il farro e infatti andiamo a fare proprio un pane con la farina di farro seguitemi per fare questo pane userò questa farina bio della rieper presa direttamente al molino in alto adige e poi userò questa macina da pietra del molino caporello ci metterò anche un po di zero ma poco 100 grammi giusto 100 grammi e poi ho preparato 420 grammi di acqua ma vediamo se ci vuole tutta e il licoli che avevo rinfrescato sono 90 grammi 30 grammi di licoli 30 di acqua 30 di farina e l'ho lasciato maturare bene ora vado a versare il licoli in planetaria e lo sciolgo con una parte dell'acqua che ho preparato bene metto tutto in planetaria per farvi vedere però poi faccio faccio girare l'acqua vediamo quanta quanta ne tira perché queste farine non assorbono molta acqua quindi vediamo quanta se ci vanno tutti i 420 grammi oppure un pochino di meno quindi con l'acqua ci regoliamo sempre in base alle farine che usiamo ok aggiungo ancora acqua vado diretta senza fare autolisia qui fa ancora caldo ok e adesso faccio girare 10 15 minuti il tempo che ci vuole finisco di mettere l'acqua piano piano così mi regolo io metto soltanto un cucchiaino di sale o mezzo cucchiaio come vedete però voi se volete mettetene di più io cerco sempre di metterne poco di sale eccolo qua è pronto ed è molto molto morbido come vedete ho messo tutti i 420 grammi e calcolate però che l'idratazione è di più e superiore ai 70 perché ho usato il licoli che è già molto e che il come sapete il liquido quindi sicuramente è intorno ai 75 questa questa idratazione faccio delle pieghe in ciotola così faccio riposare un pochino poi una mezz'oretta e poi se volete continuare a fare un altro giro in ciotola però adesso a me mi va di fare questo faccio un giro di pieghe slap and fold così per cambiare un pochino perché mi piace mi piace questo movimento vedete ancora appiccicoso molto morbido mi bagno un pochino le mani così ok tiriamo e poi pieghiamo tiriamo questo sono delle pieghe che si usano per gli impasti molto idratati anche più di questo che ho fatto io però voi se non volete farlo fate due giri di pieghe basta direttamente in ciotola ora lo metto dentro questo recipiente di vetro ecco qua copro e lo lascio lievitare 5 6 ore vediamo il tempo che ci vuole e qui siamo al raddoppio sono passate all'incirca cinque ore però calcolate che fa caldo quindi se fate questo pane in inverno magari ci vorrà un pochino di più scusatemi la voce ora lo verso sul piano di lavoro ci metto poca farina non molta e lo faccio scivolare giù ora lo allargo delicatamente perché vedete com'è bello questo impasto farò soltanto un giro di pieghe questo addirittura si potrebbe direttamente formare si vede ad occhio e già è pronto però farò un giro di pieghe delicatamente ecco con le mani piano piano spingo piano per chiudere la piega e ancora approfitto per dirvi che ho visto adesso che abbiamo superato i 5 mila iscritti non mi era accorta altrimenti avremmo avrei fatto un vlog per festeggiare vi ringrazio tutti ringrazio i nuovi i iscritti e vi invito a condividere i miei video per pubblicizzarli a mettere a lasciare un like e commentare anche grazie bene ho coperto e l'ho tenuto circa mezz'ora anche un pochino di più se volete tenerlo ed ora vado a formare lo divido perché voglio fare due filoncini piccoli senza pesare i pezzi divido a metà faccio ad occhio non è che sto lì a pesare infatti forse uno un pochino più grande dell'altro ma non importa poca farina per aiutarmi e lo chiudo per formare questo lo allargo un pochino prima ma voi fate come volete potete fare anche una pagnotta un filone soltanto uno come volete io procedo così piego i lembi e formo questo filoncino ne faccio due così è più comodo magari uno lo posso regalare oppure lo taglio e lo surgelo a fette così c'è l'ho per i periodi che non che non impasto ok ora faccio quell'altro e poi questi filoncini vanno messi a lievitare a lievitare ma penso ci vorrà poco un paio di ore sicuramente non di più bene li metto in un cestino che dove ho spolverizzato un po di semola la metto anche sopra e si devo comprare un po di cestini nuovi adesso li metto qui ma non è che proprio adatto questo cestino li metto tutte e due qui così si vengono un po stretti però adesso penso che ordinerò un po di cestini nuovi bene li copro vedete stanno divisi forse dovevo allungarli un pochino di più ma non non importa così va bene copro spolverizzo ancora con farina e li faccio lievitare all'incirca due ore mi controllo bene la lievitazione mano a mano quando è quasi pronto accendo il forno per farlo scaldare bene con un pentolino di acqua e come sapete la cottura i primi 15 ma anche 20 minuti poi togliamo il pentolino così la crosta diventa più spessa come vedete il taglio non mi è venuto molto bene perché anzi è veramente bruttissimo tanto che non volevo nemmeno fare il video poi però quando ho visto l'interno come vedete spettacolare bello e profumato però il taglio se volete potete farlo dopo sette minuti che avete infornato velocemente e poi lo rimettete subito nel forno quindi dicevo la cottura a cui ci sono voluti 45 minuti perché sono piccolini quindi i primi 20 minuti e poi abbassare a 220 togliere il pentolino e poi a spizzero finiamo di fare la cottura con il forno un pochino aperto bene amici vi ringrazio della visione grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao